11.242 positivi in provincia di Padova, il 50% dei casi positivi in più rispetto alla scorsa settimana. Risale la curva dei contagi con 83 persone ricoverate in azienda ospedaliera, 4 delle quali in terapia intensiva. Non ci preoccupa, l'abbiamo già visto in altri momenti, vediamo come si sviluppa. Certo è che andiamo verso una stagione autunnale, una stagione quindi che predispone a quelle che sono appunto le patologie, le virosi, le patologie appunto da virus e quindi Covid e influenza. Accanto al Covid il timore è una recrudescenza del virus e dell'influenza per l'abbassamento delle misure anticontagio. Di influenza si muore, bisogna ricordarcelo. E voi pensate che in questo momento autunnale in cui andremo incontro a una recrudescenza, anche a un aumento dell'incidenza del Covid, quale impatto disastroso potrebbe avere una infezione concomitante e un rapida successione da parte del Covid e dell'influenza o viceversa. Quindi il suggerimento è sicuramente di vaccinarsi anche contro il virus influenzale. In azienda ospedaliera, accesso senza prenotazioni nei pomeriggi da lunedì a venerdì presso l'ambulatorio Prelievi, il sabato nella piastra ambulatoriale del Policlinico per i grandi anziani, gli allergici e i pazienti fragili. Forte l'appello alla vaccinazione. In questo momento, o per chi è esposto, per motivi, pensiamo anche a una cassiera di supermercato, per esempio, che è stata una delle categorie maggiormente impattate anche nell'epidemia Covid, chi è esposto alla popolazione, oppure una persona anziana, o chi accodisce un anziano, chi è un anziano in casa, perché noi rischiamo di portare un virus che magari per noi non è così rilevante, ma un virus potenzialmente mortale a casa dei nostri genitori e dei nostri nonni. Quindi l'invito è a vaccinarsi per tutti.